Il mio nome è un po' di questo spettacolo, ci vediamo ancora il spettacolo anche voi. Tutti i miei, non tutti i miei, tutti i miei, e ci vediamo anche lo spettacolo. Grandi! Ho visto ieri su YouTube, Toscanini che dirige, fa le prove della traviata, a un certo punto dirige l'orchestra, i tamburi non entrano dove dovrebbero entrare, a un certo punto si sente, io mi vergogno di voi, io mi vergogno! Cosa che non posso dire, mi ero più in certo punto. Grazie! Applausi! 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 Beh , io voglio un po' rompervi un po' i maoli, se vi va, vi alzate dalle sedie eaidu di qua. Eh, perché avremmo giusto qualche pezzo... Grazie a tutti.